buongiorno e buon caffè biblico a voi qualche settimana fa sono andato al cinema a vedere un film di matrice cristiana quindi prodotto da persone che volevano far passare anche un messaggio cristiano sound of freedom è un film denuncia assai toccante e forte soprattutto nella prima parte l'intera pellicola è una brutale denuncia del traffico di esseri umani e in particolare il più odioso e viscido forse ossia il traffico per sfruttamento della prostituzione di bambini l'attore principale è lo stesso che interpreta gesù in passion ossia jim caviziel e in questo caso veste i panni di un agente governativo realmente esistito che intraprende una battaglia personale contro questo traffico di minorenni in colombia è la rete criminale internazionale in più rapida espansione che esiste al mondo ha già superato il traffico illegale di armi e presto supererà anche quello di droga si può vendere una dose di cocaina una volta sola ma un bambino 5 10 volte al giorno i figli di dio non sono in vendita se la prima parte è toccante drammatica la seconda diventa più hollywoodiana quasi un film d'azione quindi la pellicola intrattiene anche oltre che diciamo denunciare e toccare i cuori su questa piaga con tanto di appello finale al di là di valutazioni sul film c'è un momento nel film in cui l'agente governativo finge di essere interessato al materiale pedo pornografico e di fare amicizia con uno spacciatore di questi video un criminale pedofilo stanno parlando in un bar e mentre negoziano i termini del loro accordo criminale la gente sorride interessato e con lo stesso sorriso se ne esce con una frase che lascia il criminale confuso sentite dice ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare in questo passaggio è una citazione di gesù gesù attrae l'attenzione dei presenti verso dei bambini richiedendo ai suoi discepoli di diventare come loro vulnerabili come questi bambini deboli per il mondo quindi semplici di spirito mansueti perseguitati perché fragili e frangibili gesù parla dei bambini per parlare dei veri discepoli quindi essendo multidimensionale la parola di dio qui certo parla di bambini piccoli perché li ha lì con lui ma parla di coloro che credono in lui anche ed è a questo punto che se ne esce con questa immagine violenta chi li scandalizza meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare gesù non inneggia di certo la pena di morte nemmeno per coloro che violassero un bambino poiché la radicalità di cristo giunge a una giustizia che noi non reggiamo la misericordia per tutti anche per il criminale più osceno ma lo scandalo la pietra d'inciampo per i suoi figli è gravissima se non vi è pentimento meglio sarebbe affogare velocemente con una pietra appesa al collo piuttosto che affrontare il suo giudizio finale non sono parole facili sono un monito estremo ravvedetevi voi che avete fatto del crimine la vostra vita o voi che perseguitate la chiesa o voi che fate inciampare il discepolo di gesù nel suo cammino perché la morte non sarà la fine poi verrà il giudizio no gesù non è tascabile gesù è anche il giusto giudice dio ci benedica nella comprensione di questa dura verità biblica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti